Da giovedì 24 novembre prende il via Next Generation Now e il format multimediale voluto dall'assessorato al lavoro e alle politiche giovanili del comune per avvicinare alle istituzioni le giovani generazioni. Cinque interviste condotte dall'assessore Chiara Marciani saranno trasmesse ogni giovedì alle 16 in diretta Twitch ed in cross-posting sui profili social di Repubblica e More TV per dare voce a storie di successo che hanno protagonisti i ragazzi di Napoli. Con questo progetto cerchiamo non solo di raccontare storie di giovani napoletani e napoletane che hanno trovato una propria strada e anche storie di successo legate a un loro percorso nella nostra città ma vogliamo che da questa chiacchiera anche informale visto che utilizzeremo uno strumento come quello di Twitch che è molto vicino ai nostri giovani vorremmo che appunto emergessero quelle che sono eventuali criticità o eventuali ostacoli che questi nostri interlocutori hanno incontrato. Una sorta di help desk a loro disposizione che possa sostenerle e aiutarli nel loro percorso imprenditoriale, nel loro percorso di vita e ci auguriamo di successo nella nostra città. Si comincia con Mattia Barbarossa, il più giovane imprenditore del settore aerospaziale nel mondo ma interviste su esperienze di talento sono in programma per cinque settimane anche a cantanti, attori e scrittori. Andremo in onda sui canali social dell'assessorato e poi naturalmente attraverso Twitch sul canale che abbiamo dedicato a questa iniziativa ci saranno le interviste una per ogni settimana fino a un evento finale con degli ospiti a sorpresa graditi ai giovani napoletani in cui vogliamo poi appunto raccontare tutte le storie e tutto quello che è stato l'esito di questo percorso che porteremo avanti insieme iniziando appunto da giovedì 24 novembre.